Ciao a tutti, ultimo incontro sui sepolcri di Foscolo. Questa volta analizzeremo la terza e quarta parte, che sono le ultime due sezioni del capolavoro di Foscolo, da verso 151 fino alla fine. Come sempre ci avvaliamo della presentazione in PowerPoint che trovi nel registro elettronico, partendo appunto da quello che è l'assunto di base della terza parte, cioè che le tombe dei grandi stimolano grandi azioni. Abbiamo lasciato in questa prima parte, anche nei sonetti, Foscolo fermo su posizioni nichiliste, sensiste, tipicamente dell'illuminismo, in cui appunto il futuro dopo la morte non esiste. Al contrario, abbiamo anche detto come invece presupposto per la composizione di sepolcri è invece proprio questo superamento di posizioni sensiste. E proprio nella terza e quarta parte questo superamento si evidenza in maniera palese. Quindi, proprio dalla terza parte, noi ricaviamo questo assunto di base. Le tombe dei grandi stimolano grandi azioni. Ai grandi cose, il forte animo accendono le urne dei forti oppi in demonte. Ancora una volta viene citato l'amico poeta che è il destinatario dell'opera. Il poeta narra e quindi appare in prima persona la sua azione di Foscolo, il pronome personale quando appare in generale nelle opere d'arte è sempre un momento importante. Proprio in questa sezione noi troviamo il poeta che entra, entra in prima persona nella descrizione di quello che vuole dire, nella esemplificazione di ciò che vuole dimostrare. Lui è stato a Santa Croce, a Firenze, dove sono sepolti alcuni grandi italiani. E ci tiene a raccontare di questa visita, che ovviamente non è una visita museale, è una visita esistenziale, a questa importantissima chiesa di Firenze e d'Italia. E allora incomincia una carrellata di personaggi famosi che adesso andiamo ad esaminare uno ad uno. Vedi la tomba dei Machiavelli? Io, quando il monumento vidi ove pose il corpo di quel grande che temprandolo scettra ai regnatori gli allorne sfronda, e alle gente svela di che lacrime grondi e di che sangue. Ricordo, l'anticipo adesso, che i vari personaggi che incontrerà Foscolo e che incontriamo noi nei sepolcri sono tutti citati attraverso lunghe perifrasi. Il corpo di quel grande non viene citato esplicitamente il nome di Niccolò Machiavelli. Ecco, c'è in più una interpretazione un po' particolare del pensiero di questo autore, che sembrerebbe, questo lo leggerai poi in nota sul nostro libro, sembrerebbe in qualche modo appunto criticare l'azione politica dei principi, dei regnanti in generale. Primo personaggio, Machiavelli. Secondo personaggio, Michelangelo, che viene citato in maniera molto breve, però significativa. L'arca di colui, l'arca cioè il sepolcro vidi, di colui che il nuovo limpo alzò e resse, costruì in Roma, ai Celesti. Michelangelo appunto fa riferimento a San Pietro, è un riferimento estremamente laico, chiamiamolo così, direi forse, qua lo cito, lo dico in polemica anticattolica, no? Viene chiamato il nuovo Olimpo, quello che è ovviamente il santuario più importante della cristianità cattolica. Secondo personaggio, Michelangelo. Terzo personaggio, Galilei. Galilei che evidentemente viene appunto seppellito a Santa Croce, anche se ha passato la maggior parte della sua vita fra Pisa e Roma, ma però viene citato in maniera molto così singolare, di chi vide, sempre la tomba, di chi vide sotto le tere o padigliano, rotarsi più mondi e il sole irradiarli in moto, onde all'anglo, che tanta ala vistese, sgombra primo le vie del firmamento. Una micro storia della fisica, dell'astrofisica, fra 1500 e 1600 e fino a 1700, perché ci dice appunto le novità, le grandi scoperte che ha portato con lei e la base che esse costituirono per le scoperte legate alla gravitazione universale portate avanti dall'anglo, cioè Newton, che evidentemente non è seppellito a Santa Croce, ma ovviamente che ha potuto fare le scoperte che poi fece solamente grazie alle grandi innovazioni di Galilei. E ancora, il programma beata a Firenze in generale per le sue bellezze naturali, sì, certamente per il posto, per l'ambiente, le colline che la circondano, per l'Arna, eccetera, eccetera, ma soprattutto, soprattutto perché ha dato i Natali a Dante e a Petrarca. In particolare sul primo, mi fermo, cito esplicitamente un brano di Sepolchie, tu prima, Ferenzo, devi il carme che allegrò l'ira al Ghibellin Fugiasco. Allegrare l'ira, appunto, ha alleggerito, mi sembra molto fine dal punto di vista psicologico, da parte di Foscolo, dire che la Divina Commedia, la composizione della Divina Commedia, ha alleggerito quell'ira che certamente albergava nel cuore di Alighieri. Ghibellin Fugiasco, e ovviamente chi di noi ha studiato un po' di Dante, davanti a questa definizione, rimane un po' perplesso, sapendo che era di Guelfo, di parte bianca, ma appunto Foscolo è un grande conoscitore della vita e dell'opera di Dante e non è un errore. Evidentemente questo, no? Dopo l'esilio, dopo il 1304, Dante si muove nelle corti del nord, che sono ancora tutte di ispirazione ghibellina e a tal punto è in odio il suo partito che possiamo dire quasi, forse si avvicina proprio a posizioni che sono estranee al Guelfismo doc, chiamiamolo così. Quindi Foscolo in questo caso, ma questa è una banalità che sto ripetendo dopo aver letto alcuni critici, Foscolo non compie un errore, lo chiama in questo modo, ovviamente per me molto suggestivo. Firenze è beata perché ha dato i Natali a due dei più grandi poeti del 1300 e in generale della storia della letteratura italiana. Non sono seppelliti lì, però ha dato i Natali a questi due grandi poeti, quindi è beata, beata Firenze, beata Santa Croce che si trova a Firenze. Oltre a questi lustri personaggi c'è ovviamente tutta una serie di personaggi minori rispetto a questi, ma non per questo meno importanti, che sono conservati proprio in questa chiesa, seguendo quello che era, l'abbiamo detto già nell'altro incontro legato alla prima e seconda parte a cui ti rimando, secondo l'uso normale prima dell'editto di Saint-Claude di seppellire i personaggi illustri nelle grandi chiese in modo che la gente potesse vedere, potesse ricordare, potesse ammirare in qualche caso, l'operato dei defunti, le cui tombe vedeva appunto la domenica quando andava a messa. Ecco, proprio qui a Santa Croce troviamo le uniche glorie italiche che non sono state profanate dallo straniero, lo straniero che ha saccheggiato nel corso dei secoli, forse millenni, il territorio italico, ecco, a Santa Croce invece, no, a Santa Croce con tutta questa violenza non è avvenuta. Santa Croce è un reliquiare, ma più beata, che in un tempio accolte serbi le itale glorie. Ecco, e qui si innesta ovviamente il motivo politico che abbiamo visto essere così importante e così anche in contrasto con l'Ortis. da questo reliquiare che è Santa Croce sarà possibile trarre la forza per l'azione politica. Quindi non solo è possibile, ma è voluta, è voluta, è appunto, è stimolata, è in qualche modo pubblicizzata da Foscolo stesso in virtù delle tombe presenti a Santa Croce, che ove speme di gloria agli animosi intelletti rifulga ed all'Italia, quindi traremo gli auspici, quel quindi l'ho messo in rilievo perché non è un quindi come lo intendiamo noi, è un quindi, è perciò, è per questo motivo in seguito, ma è da qui, cioè da Santa Croce, dalle tombe di Santa Croce, dalle glorie italiche contenute e custodite a Santa Croce e noi traremo gli auspici, cioè lo stimolo all'azione politica, quindi a ribellarci contro lo straniero, a riimpossessarci del nostro territorio. Da qui, in virtù di queste tombe che richiamano l'amor patrio. E allora questo stesso procedimento era stato seguito da Alfieri. Attenzione, lo dico perché nel brano che viene qui antologizzato e a questi marmi venne spesso Vittoria e Disperazzi, noi notiamo una piccola cosa che anche il nostro libro dice, e cioè che è l'unico, l'unico personaggio importante la cui tomba è presente in Santa Croce che viene citato per nome. Tutti gli altri, appunto, i ghibelli in Fuggiasco, sono stati citati, ricordati da Foscolo attraverso perifrasi. In questo caso, Vittorio, direttamente per nome, viene quasi dimenticato il cognome per quasi sottolineare questa profonda empatia che Foscolo vive con questo altro spirito ardito, tipicamente romantico, tipicamente ribelle, che è Alfieri. Alfieri che passeggiava lungo le navate di Santa Croce per vedere le tombe degli antichi grandi italiani e da lì trarre la forza per l'azione politica. Quindi è un alter ego che in qualche modo viene messo ad esempio da Foscolo stesso. E allora le tombe diventano quindi propriamente stimolo per l'azione politica. Con questi grandi abita Eterno fu ovviamente Alfieri e le ossa fremono amor di padre. Ecco, questo è il nucleo essenziale della terza parte. L'amore di padre è custodito da queste tombe e può rinascere, deve rinascere da queste tombe. Ah sì, da quella religiosa pace un nome parla. Questa terza parte si conclude poi con un salto pingarico che riporta appunto alla battaglia di Maratona in cui i greci sconfissero i persiani. Siamo nel 490 avanti Cristo, quindi un periodo molto antico e c'è tutto il classicismo e il neoclassicismo di Foscolo. Però perché hanno vinto i greci contro i persiani per l'amore di patria. E quindi di nuovo è un auspicio che viene dal passato per gli italiani di oggi, dell'oggi di Foscolo, a combattere lo straniero, a liberare il territorio italico da questi usurpatori. E passiamo con questa la quarta parte che ha come sottotitolo unico la funzione eternatrice della poesia. Nella terza abbiamo visto la tomba, nella quarta vediamo la poesia in che senso e in che modo la poesia rende la poesia e rendono tomba e poesia insieme eterne le azioni degli uomini. Ecco, dopo la morte c'è una ricompensa per gli atti virtuosi e generosi giusto di gloria dispensiare in morte. La forza della poesia restituisce al passato la sua voce superando la morte e questo è il famoso passo e l'armonia viva. L'armonia significa ovviamente la poesia vince di mille secoli il silenzio che la morte e l'ublio porta con sé, il passaggio del tempo porta con sé. E quindi è una vittoria totale che ha prima nella terza parte la tomba poi nella quarta parte la poesia su questo tempo che è appunto in maniera shakespeariana distrugge tutto quello che ovviamente gli passa sotto. È evidente che non siamo più in posizioni illuministiche sensistiche materialistiche Foscolo si è ormai trasformato in un poeta romantico a pieno titolo. La tomba non è la fine di tutto la morte non è la fine dell'uomo ciò che ha fatto in vita resta per sempre grazie alla tomba grazie alla poesia che lo ricorda. Infatti proprio questo è la conclusione che appunto forse ad una prima lettura risulta strana ma che in questo contesto in questo filo argomentativo che in qualche modo lega un po' a tutto si inserisce una descrizione una narrazione forse ancora meglio che lega al passato di Troia la fine di questa città e anche forse i suoi inizi perché? Perché per una preghiera della ninfe lettera rivolta a Giove nasce la stirpe dei Dardanidi quindi Priamo e quindi poi Romani e attorno alla tomba di Elettra c'è il cuore di questa città importante Ilion che viene eternata dalla poesia di Omero ovviamente stiamo parlando dell'Iliade ma ovviamente di conseguenza anche dell'Odissea Un dì vedrete mendico un cieco errar sotto le vostre antichissime ombre brancolando penetrarne gli avelli e abbracciar loro e interrogarle ecco c'è un'immagine tipicamente romantica anche forse un po' passata nell'ottica nostra il tralascio evidentemente tutti quelli che possono essere gli approfondimenti sulla questione America viene immaginato Omero come una poeta ormai il cieco che brancola fra le tombe degli antichi troiani cercando le ispirazioni descrivendo quello che vede e ovviamente creando quel poema che fonda di fatto la letteratura europea ecco il sacrovate sempre Omero placando quelle affitte alme col canto i prensergivi eternerà un verbo importante per quante abbraccia terre il grande padre oceano ecco dovunque è un modo ovviamente è una perifrasi molto ricca per dire ovunque ovunque si sentirà parlare dei prensergivi appunto dei principi greci troiani tutti quelli che presero parte alla guerra di Troia e tu onore di pianto pianti Ettore avrai ecco interessante Ettore è uno sconfitto dalla guerra di Troia ovviamente Nero rimane ucciso da Achille e quindi è uno sconfitto ma ma la poesia di Omero lo rende eterno ovvi fiasante e lacrimato il sangue per la patria versata e finché il sole risplenderà sulle sciagure umane quindi dovunque si parlerà di patria e per sempre fino a quando il sole risplenderà sulla storia degli uomini si parlerà di te e possiamo dire che in qualche modo Foscolo ha avuto ragione perché ancora oggi sentiamo parlare di Ettore ma lo sentiamo e lo conosciamo e vediamo attraverso film e leggiamo attraverso libri questa figura ripeto di eroe sconfitto eroe perdente ma eroe perché ha immolato la propria vita per la patria per difendere la propria patria in questa singola artenzione con Achille la poesia rende eterne le vicende umane e così si conclude appunto la quarta e ultima parte dei sepolchri che appunto ribadisce questa posizione che ovviamente di sensistico non ha più nulla ma è che inseriamo al pieno nel panorama romantico chiudiamo con un'ultima slide che richiama sempre questo schema che trovi a pagina 646 questo schema che vuole in qualche modo sintetizzare quelli che sono i contenuti della terza e quarta parte anche in questo caso lo scorro senza fermarmi poi troppo lo troverai lo leggerai con calma sul nostro libro perché perché ancora una volta ribadiamo che non c'è una conseguenzialità logica argomentativa serrata all'interno dell'opera ma è altrettanto vero che l'opera non va avanti per casualità sono 295 versi non è che sono così casualmente avvicinati l'uno all'altro c'è una argomentazione che mantiene in sé una sua logica di contenuti e allora con questo video chiudiamo l'analisi dei sepolchi e chiudiamo anche questa esposizione per quanto sommare possa essere però completa delle opere di questo grande protagonista del romanticismo chiamiamo così abbiamo detto quanto è difficile mettere un'etichetta sul foscolo però è sicuramente un protagonista del romanticismo italiano e ovviamente lascerà traccio di sé anche nella letteratura successiva alla prossima